salve a tutti gli amici tech differente siamo qui oggi con l'unboxing del microsoft lumia 950 che ci è appena giunto in redazione andiamo ora ad aprire la confezione dove troviamo subito il dispositivo diamo subito dargli una rapida occhiata appena riesco a toglierlo così eccolo qua il dispositivo abbiamo il bilanciere del volume tasto accensione spegnimento e il tasto per la fotocamera da questo lato non abbiamo nulla abbiamo qui sotto l'ingresso usb di tipo c per la ricarica qui abbiamo la fotocamera frontale fotocamera posteriore eccola qui con il flat con un triplo flash led come si può vedere e qui abbiamo la cassa audio generica in uscita come potete vedere dalla scritta qui eccola qua abbiamo la fotocamera pull view di con le denti zeiss quindi dovrà essere davvero ottima continuando l'unboxing abbiamo qui il i vari manuali per la garanzia qui invece avremo ovviamente il cavo usb di tipo c come possiamo vedere e usb ovviamente da che utilizzeremo o per connetterlo ad una presa della corrente per ricaricare il dispositivo oppure per connetterlo ad un pc e poi abbiamo la presa da muro con ovviamente il cavo integrato noi abbiamo l'ingresso usb per il cavo per il cavo qui in dotazione quindi due cavi una presa da muro e un cavo per collegarlo al pc e questa anche questo ovviamente ecco è usb di tipo c in quanto ha un ingresso di questa tipologia per quanto riguarda l'unboxing direi che è tutto unboxing velocissimo cose all'interno della della confezione pochissime abbiamo giusto il manuale il manuale il dispositivo ovviamente un cavo usb di tipo c e un altro cavo con con la presa da muro ovviamente per ricaricare il dispositivo per questo unboxing direi che è tutto un saluto a tutti e dalla prossima ciao